attenzione attenzione per la diffusione dell'opera del grande immenso enorme maestro con il mio pubblico grazie alla ricerca di amleto che tu hai scatenate Tempesta! Acqua e nero di lui sali! Adi! Guarda, mi andava qua! Mietto, feria! Macbeth! Avrei preferito una morte più asciutta! Shakespeare mi ha ordinato di radunare tutti i suoi personaggi su quest'isola della Bovisa! E se a che? Perché lui vorrebbe diventare immortale e invece la gente non va più a teatro! Oh no padre! Come faremo a sopravvivere? Andremo di casa in casa a raccontare le avventure di questi personaggi! Andiamo! Qui nei quartieri di Niguarda è passato Shakespeare! Perché quest'anno è il 450esimo anno dalla nascita del bardo! E quindi da un balcone ci sarà Giulietta che dice Romeo Romeo perché sei tu Romeo e loro stanno girando qua! Che bello! Che bello! Che tenero! Prospero maledetto! Mi fa lavorare anche nei weekend! Lo sapete che si dice che lui stesso sia William Jackson? Tu! Colpiscilo! Subito! Tutti colpito! Sono l'ebreo del mercante di benedio! Mi avete distrezzato! Sono ebreo! Ecco! Fa piangere anche i bambini! Sono ebreo! Dovrà un occhi! Se ci ferite! Non ti preoccupare è incatenato! Noi non sanguiniamo! E se ci fate un torto? Noi non ci vendicheremo! Buongiorno! Il sabato prossimo il giorno 14 giugno faremo uno spettacolo! Dai sicuramente ci siamo! Va bene! Ditta! Mi è sembrato di sentire una voce gridare Non dormire più! Cosa volete dire? Cosa volete dire? E lavatevi dalle mani questa sozza! Potrà! L'oceano del grande Nettuno lavar via Questo sangue dalle mie mani! No! Papi ci trovo ancora io! Ora Di squisire cosa sia la maestà e cosa sia il dovere Perché il giorno sia giorno La notte è notte Il tempo sia tempo Sarebbe come sciupare La notte, il giorno, il tempo Pertanto poiché la brevità È l'anima del senno La prolissità Le membra degli ormamenti esteriori Saranno breve Il giovane a un letto è pazzo Perché definire una vera fazia cos'è Se non essere pazzo è nient'altro Ma lasciamo andare Essere O non essere Ma questa è bella Me la scrivo Allora Che notizie? L'avete trovato? L'abbiamo trovato! Non è amleto! Buongiorno! Noi stiamo lavorando su Shakespeare Vi faccio vedere il libro che sto leggendo? Sì! Giochi di potere Shakespeare spiegato ai manager La vita è come un'opera che cammina Un piccolo attoriello che si dimena sul palcoscenico Solo è il tempo dedicato alla sua parte Poi di lui Nessuno saprà più nulla! A me messeri Lasciamoci alle spade Tutte queste angosce E venite con me Nel mondo dei sogni Nel mondo dell'amore Seguitemi! Eh, se vuoi entrare dal cortile All'8 Sabato prossimo a che ora? Alle 20.30 Va bene, dai! Perfetto! Ciao! Ciao! Speriamo che io possa portare A me in parte con la carrozzella Dove l'ho fatto? Dove l'ho fatto? Mi raccomando non ci tiri secchi d'acqua! L'acqua bellissima! Tutte le iniziative che avete fatto quest'anno! Grazie, arrivederci! Sono Bapaglia! Sono bapaglia! Sono bapaglia! L'annegrato! Piume! Oh, poverina! Nell'ambro? No! Nel sede! Darò di saper amare Al di là di quando puoi sognare Ma ricordati Amami come sei Eh sì, facciamo Romeo e Giulietta Allora? Allora vengo fuori Romeo, Romeo Perché sei tu un Romeo? Rimieni a tuo padre Rinuncia il tuo nome O spettacolo Giulietta 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 Buon appetito! Ciao! Buon appetito! Siamo portati il sabato prossimo nei portiri Grazie Prendete Il volantino se lo do anche Sì Va bene anche per bambini Ti saluto Ciao Ciao ed ora vi invitiamo voi con i vostri volti ad abitare questi corpi facciamo fare l'editman non accadetevi io faccio il nostro vero bacio pubblico e due e a a a a a a a a to be best to be best to be best to be best to be to be or not to be e la paura che ci assalti mor dell'aldilà c'erunfibili e parassiti senza volontà best to be best to be best 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 to be best best to be and she never and stress Dina! Dina! Dina, dove sei? Dina? Bellissimo, veramente. Meglio che al bario. Scusa, l'avete trovata a Mletton o no? Grazie.